benvenuti a una nuova settimana di lavoro qua a school of sunrock studios stiamo lavorando molto molto bene abbiamo in testa un paio di cosucce interessanti una delle quali è ovviamente esplorare il mondo degli strumenti acustici stiamo lavorando bene con la chitarra però è anche vero che cakewall ci dà un po di cose interessanti già di base vediamo anche con altri strumenti questa settimana probabilmente proveremo a utilizzare un pochino il basso e altre cose vediamo che cosa succederà sicuramente un'altra parte interessante magari ve ne parlo dopo perché devo lavorarci su un pochino è quella di un nuovo strumento che è stato messo a disposizione proprio in questi giorni da cymatics che è una ditta che fa appunto un sacco di software legati della musica elettronica vedremo un attimino questo nuovo progetto questo nuovo plugin che si chiama lotus che cosa fa che cosa insomma diamo un'occhiata poi ci sentiamo più tardi vediamo di fare qualcosa insieme anche questa settimana siamo andati avanti abbiamo studiato cose nuove e soprattutto abbiamo iniziato ad usare anche il basso agganciandolo alla schieda audio abbiamo avuto qualche difficoltà iniziale a capire come potevamo fare poi insomma seguendo anche un po' la logica siamo riusciti ad arrivare a un punto chiave cioè la regolazione per perfetta tra ciò che veniva fuori dallo strumento e ciò che doveva acquisire la scheda audio è stato un bel momento perché abbiamo potuto lavorare cercare di capire qualcosa anche utilizzare alcuni degli strumenti che abbiamo in questo momento in utilizzo come gli equalizzatori come altri strumenti che stiamo pian pianino esplorando è una bella avventura quella che stiamo facendo anche con gli strumenti fisici perché lo sapete stiamo facendo tanto lavoro sulla musica elettronica però anche il basso anche la chitarra hanno un valore molto importante ovviamente per noi che oltre a suonarli insegniamo anche alle persone come si maneggiano e come si usano questi strumenti wow che faticaccia anche questa settimana siamo riusciti però alla fine il basso ce l'abbiamo l'abbiamo costruito siamo riusciti a capire fino in fondo come fare e quindi da oggi in poi i bassi non ci fanno più paura perché useremo il nostro basso abbiamo lavorato un pochino con Lotus che sostanzialmente è un prodotto molto interessante e nuovo ce l'abbiamo in prova gratuita per 30 giorni poi verosimilmente lo pagheremo e lo compreremo e lo terremo perché è veramente molto molto bello sostanzialmente mette insieme un paio di effetti e quello che salta fuori poi utilizzando strumenti come la chitarra strumenti come magari il pianoforte abbinati a questo genere di plugin è straordinario veramente meraviglioso inoltre stiamo lavorando al progetto Dusty Vinyls stiamo continuando a portare avanti questa cosa e chiaramente ovviamente è sempre bello trovare cose nuove stimolanti è bello trovare nuovi aspetti che magari si possono esplorare in questo caso ce l'abbiamo fatta quindi siamo stra contenti non vediamo l'ora di andare avanti mentre per la prossima settimana attenzione perché abbiamo ricevuto una telefonata e avremo un incontro con una persona e speriamo di potervi dire qualcosina di più sabato prossimo perché davvero sarebbe molto 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 interessante un progettino tutto nuovo che noi rinnoveremmo comunque all'interno di questo vlog di SOS Rock Studios quindi ci sentiamo la settimana prossima fatevi bravi comportatevi bene e continuate ad ascoltare tanta musica ci vediamo alla prossima